Gori annuncia gli investimenti. 2 milioni e mezzo di euro degli 11 complessivi pari al 20% della spesa totale nel biennio 2016-2017 per le reti fognarie di tutta la penisola sorrentina. Si è svolto presso l'Aula Consiliare del Comune di Piano di Sorrento un incontro per studiare il piano di interventi da parte di Gori nei sei comuni peninsulari per la separazione delle fogne bianche e quelle nere. All'incontro erano presenti Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento, Pier Giorgio Sacristani, sindaco di Sant'Agnello, Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Lorenzo Balduccelli, primo cittadino di Massa Lubrense, Gennaro V, assessore di Vigaquense, Antonino Castellano, assessore di Sant'Agnello, Massimo Astarita, assessore di Meta, oltre al presidente di Gori, Michele Di Natale e il direttore generale Francesco Rodriquez. Obiettivo comune quello di scongiurare problemi relativi ad allagamenti e all'inquinamento del mare. Il territorio della penisola sorrentina è un territorio estremamente sensibile a cui la Gori dà sempre apposta attenzione. Noi abbiamo previsto per il biegno 2016-2017 una serie di interventi per un totale di circa 2 milioni e mezzo di euro che consentiranno la separazione delle reti fognare bianche e delle reti fognare nere al fine di evitare eventuali commissioni in tempo di pioggia. Sono altresì stati previsti degli interventi di adeguamento delle reti fognare per le marine che rappresentano un aspetto dal punto di vista turistico, dal punto di vista ambientale molto importante per le quali altrettanto sono stati previsti nell'ambito di questi fondi resi disponibili dalla tariffa in questo programma degli interventi attualmente in corso per la risoluzione di determinate problematiche, di specifiche problematiche che consentiranno quindi una migliore gestione della rete fognaria. Il tema delle acque nella nostra regione, ma anche in altre parti d'Italia, purtroppo viene frazionato tra numerose competenze e questo aspetto, visto dal punto di vista del cittadino, può apparire poco chiaro. Nell'Italia, nella nostra regione in particolare, il tema che riguarda le acque vulgari che recapitano nei palloni ha una sua competenza, in particolare regionale, con gli assessorati, i riferimenti della difesa suolo, con i suoi finanziamenti, con le sue regole, con i suoi progetti. Il problema dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle, che si sta completando, è un problema che è tutto a carico della regione Campani, che lo ha progettato, che ha seguito l'appalto e che adesso dovrà completare l'opera, collaudarla e poi, a seguito del collaudo, consegnarla a Gori per la manutenzione. Infine, dei tre temi, quello che riguarda invece i problemi del reticolo di fognature, che sono stati oggi accennati, è invece di competenza Gori. È importante fare questo quadro generale per evitare che nascano delle confusioni, in merito ai, purtroppo, numerosi disservizi o disguiti che si notano in tutte le problematiche che ho evidenziato. Massima soddisfazione espressa dai rappresentanti dei comuni della penisola sorrentina interessati al piano di interventi. Si sta attuando una sinergia per la risoluzione di questi problemi che riguardano il sistema idrocofognario della penisola sorrentina. È chiaro che c'è tanto da lavorare, tanto da fare. Ci sono cose che non sono state fatte in passato. Si stanno facendo ora, ormai sono due anni che sono iniziati questi lavori di separazione tra Fogna Bianca e Fogna Nera. Due amministrazioni ci siamo, la Gori ha dato la disponibilità. Saremo qui, diciamo, insieme a cercare di migliorare quella che è la situazione della penisola. È importante prima avere i cittadini, avere un mare balneabile e poi, anche come immagine, perché sorrendere la penisola sorrentina non si possono permettere di avere un mare non balneabile, anche perché siamo una stazione specialmente turistica e il mare deve essere pulito. Con loro abbiamo fatto un programma di investimenti, sta andando avanti, non bisogna abbassare la quadra. Loro ci stanno dando una reale mano a risolvere questo problema. Lavorando in sinergia, come ha detto il Presidente, secondo me si arrivano ai risultati. Non in breve tempo, ma in medio-lungo termine, anche perché le fonti finanziarie sono scarse, sia per noi che per loro. Il problema della balneabilità e della tutela del mare nel nostro territorio è un problema importantissimo, sia dal punto di vista economico, sociale e turistico. Quindi siamo mettendo a punto tutti quegli interventi che, nell'ambito delle risorse possibili, si possono fare per dividere le fogne bianche dalle nere, per vedere quando finalmente entra in funzione il depuratore. Quindi c'è un'attenzione massima e noi siamo contenti che finalmente ci sia questa attenzione. Grazie. Grazie.